Un cordiale saluto ai telespettatori della C, puntata di 30 minuti oggi dedicata all'emergenza rifiuti in Calabria, un'emergenza senza fine e ne parliamo questa sera con un esperto in gestione dei rifiuti, Nicola Tucci, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Dunque con lei oggi affrontiamo questo argomento da anni ormai al centro di tematiche politico-ambientali a livello internazionale ed europeo. La loro gestione è diventato un problema ambientale prioritario sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. Un problema che si è trasformato in emergenza in Calabria, che dopo 16 anni di commissariamento e oltre 100 milioni di euro sprecati inutilmente non è riuscita a risolvere il problema dei rifiuti, dello smaltimento dei rifiuti. Anzi, da Reggio a Vibo a Valencia più volte abbiamo registrato situazioni di degrado assoluto con cumuli di spazzatura accanto ai cassonetti a bordo strada. Perché tutta questa situazione secondo lei? Intanto grazie per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Parlare di emergenza in Calabria sembra un assurdo perché 16 anni di emergenza trasforma in una situazione ordinaria l'emergenza stessa, tant'è vero che io parlo di emergenza strutturata, che è tutto dire nel concetto. Purtroppo è mancata alla base una seria programmazione, una programmazione per individuare gli obiettivi necessari per uscire dalla emergenza che era stata individuata intorno al 1999, fare alcune cose che erano molto semplici, cioè dotare il territorio della Calabria di alcuni impianti che potessero prendere in carico i flussi dei rifiuti, sia quelli indifferenziati, quelli non differenziati, poterli valorizzare e poter cercare di smaltire quella che era la parte che non si poteva avviare il recupero. Erano poche cose da fare, purtroppo non avendo una programmazione ben precisa e facendo le cose in particolare nell'ufficio del commissario alla giornata i risultati purtroppo sono stati questi e quando la competenza è passata nel 2013 alla Regione purtroppo oggi ancora non vediamo uno scatto verso la normalità, ancora oggi assistiamo nel perdurare di questa emergenza, nel perdurare di carenze strutturali, noi oggi abbiamo una discarica in provincia di Catanzaro, precisamente a Pianopoli, ormai famosa perché... Una discarica sempre satura? Sempre satura... Proprio perché in questa discarica confluiscono i rifiuti di gran parte delle province del Catanzarese ma anche del Vibonese, dunque la situazione spesso è drammatica, lo vediamo tutti i giorni? Sì, in questo impianto conferisce la gran parte della Calabria, una discarica che non riesce in determinati periodi dell'anno a sopperire il carico e purtroppo i rifiuti se non vengono avviati a smaltimento in quella discarica restano per strada e poi in particolare nella stagione estiva li vediamo purtroppo nei cassonetti e molto spesso anche al di fuori dei cassonetti, anche qua una mancata programmazione, una mancata pianificazione delle azioni da fare sul territorio perché tecnicamente quando io progetto e avvio una discarica devo essere già alla ricerca del nuovo sito perché prima o poi quella discarica per quanta quantità porti la riempirò, perciò so già nel momento in cui apro un impianto di discarica quella avrà una vita, un termine, una conclusione e io devo essere già preparato a trovare un ulteriore sito. Naturalmente questo in una fase emergenziale, una fase ordinaria avrebbe voluto una spinta al massimo verso la raccolta differenziata. La raccolta differenziata che è un metodo che ci permette di poter contenere i flussi da avviare a smaltimento e far arrivare in discarica molti meno rifiuti. Ho affatto valorizzare i prodotti che molto spesso non sono veri e propri rifiuti ma sono oggetti che noi utilizziamo una volta solamente, faccio qui l'esempio, noi beviamo un succo di frutta, la bottiglia del vetro l'abbiamo utilizzata una sola volta, quel prodotto resta integro in tutto e per tutto. Se noi lo differenziamo lo possiamo far riarrivare sul mercato e riavere un nuovo prodotto. Lo valorizziamo, spendiamo di meno, otteniamo delle risorse per la gestione della raccolta, non abbiamo più necessità di impianti di discarica, impianti di termovalorizzazione. Un recente report dell'ARPACAL ha fotografato la situazione dello smaltimento dei rifiuti in Calabria, in particolare ha messo in luce quali sono i comuni virtuosi e quelli no. Vediamo questo servizio realizzato da Anna Prete e poi lo commentiamo insieme. La gestione dei rifiuti in Calabria è un problema tavico e sempre ricorrente, nulla sta cambiando e quanto emerge dal report rifiuti riferiti al 2013 dall'ARPACAL che alterna eccellenze a risultati bassissimi. Confortano i risultati di comuni come Pedacea in provincia di Cosenza che ha raggiunto il 79,36% dei rifiuti indifferenziata, seguita da Lappano sempre nel Cosentino con il 70,61% e Rocella Ionica nel Regino con il 70,42%. Tra le province rimane in testa Cosenza con il 21,84% seguita da Catanzaro con il 16,46% e Vibo con il 15,49%. Risultati importanti che però si collocano in un contesto disastroso dove nemmeno l'idea di ricevere finanziamenti sembra lottare più di tanto chi deve convincere i cittadini a differenziare e metterli nelle condizioni di farlo. La Calabria nel 2013 perde lo 0,33% di raccolta differenziata rispetto all'anno precedente e mentre alcune città primeggiano altre rimangono in fondo alla classifica. È il caso di Reggio Calabria che ha ottenuto solo l'8,26%, Vibo Valencia all'8,70%, Gioia Tauro ha realizzato il 9,60% e Locri rimane ferme al 2,26%. Insomma una situazione tragica che giustifica il grido d'allarme lanciato dall'eurodeputata del Movimento 5 Stelle, Laura Ferrara, che ha chiesto all'Europa di far diventare la Calabria una sorvellata speciale con l'invio di una task force che abbia il compito di vigilare e di intervenire per il superamento delle criticità persistenti nonostante il denaro sprecato per soluzioni tampone. Dunque, situazione tragica, l'abbiamo visto in questo servizio realizzato dalla nostra Anna Prete e poi c'è una grande disparità tra vari comuni della stessa regione, della Calabria. Sono dati impietosi che mostrano una fotografia di una regione che con la raccolta differenziata ha poca confidenza. Fortunatamente ci sono alcune eccellenze che possano fare da traino agli altri perché veramente è difficile fare raccolta differenziata se non si organizza tutta la gestione dei rifiuti perché non è solamente raccogliere in maniera differenziata il problema, quello è forse un aspetto più semplice di tutto il sistema e poi cosa fare delle quantità che vengono raccolte in maniera differenziata su un territorio comunale, dove portarle, come valorizzarle, come riuscire a ottenere indietro quei benefici anche economici dalla raccolta differenziata. Ora questo alcuni comuni come quelli che sono stati evidenziati nel servizio sono riusciti a farlo, si sono dotati di un'isola ecologica, di un centro di raccolta che è un'attrezzatura che riesce a ottimizzare quelli che sono i trasporti, crea una cerniera tra il servizio che viene svolto sul territorio comunale e il mercato che prende in carico i prodotti differenziati o attraverso i consorzi di filiera della famiglia Conaio oppure attraverso il libero mercato. Ecco, la Regione negli anni passati purtroppo non ha potuto, non è riuscita a sostenere questo tipo di programmazione e di pianificazione sul territorio perché come penso tutti sanno, prima sono stati dati dei finanziamenti su dei parametri opinabili per la raccolta differenziata e successivamente si è pensato di dare dei finanziamenti per la costruzione delle isole ecologiche, dei centri di raccolta, sostanzialmente significa che prima abbiamo avuto i soldi per fare il tetto e poi per fare le fondazioni, ecco è una programmazione che ha qualcosa di logico. Ecco perché lei insiste sulla buona programmazione? Sicuramente, quella è alla base fondamentale, una programmazione che individui gli obiettivi da fare, i passi, una programmazione che sia concertata e partecipata con il territorio su cui poi effettivamente le azioni devono essere realizzate. Non ci dimentichiamo che la raccolta differenziata la fa il cittadino e se il cittadino non è coinvolto in tutto e per tutto, non è soprattutto informato di quello che deve fare e del perché lo deve fare, allora le risposte latitano, le risposte sono non quelle che ci si aspetta e le percentuali di raccolta differenziata purtroppo rimangono sempre bassi. Io lo dico sempre, se un cittadino non viene messo nelle condizioni, non gli vengono forniti strumenti per fare la raccolta differenziata, quel cittadino, anche se dotato di buona volontà, non può realizzare una corretta gestione dei rifiuti nel proprio territorio. Ci sono in Calabria modelli di riferimento, ovvero comuni virtuosi? Sì, sicuramente, ne abbiamo visto alcuni qua citati dal servizio stesso, ne cito qualcun altro anch'io in cui ho avuto modo di partecipare come tecnico in provincia di Reggio per esempio di Città 9 che attualmente è oltre il 60%, qua in provincia di Vibo che ho seguito anche direttamente Ricadi, quando ho avviato il servizio a Ricadi la percentuale era del 15%, quando poi invece ho concluso il mio apporto era del 58% e viaggiano su queste percentuali. Un altro comune da ricordare è Saracena che è oltre il 60% in provincia di Cosenza, perciò se c'è la sensibilità da parte di un'amministrazione l'attività si fa, però bisogna fare una forte programmazione e pianificazione delle azioni a monte prima di partire, perché è molto semplice consegnare sacchetti, bidoncini alle utenze, dire che si fa un certo tipo di servizio e poi dopo il primo mese dove c'è l'entusiasmo da parte di tutti, le cose si vanno affievolendo, l'attenzione va a scemare, il servizio non funziona perché nessuno lo guida, lo calibra di volta in volta e dopo il primo mese che si fa il 70% ai mesi seguenti la percentuale decade e si torna alle percentuali prima della via del servizio, 10%, 12%, anche qua poi bisognerebbe entrare nella percentuale perché non è vero che fare l'8% differenziato significa fare un servizio, sostanzialmente quando si tratta di percentuale intorno al 10% significa che si fa una raccolta degli ingombranti e poco nient'altro. Mi sembra di capire che la situazione più catastrofica sia proprio quella della provincia di Vibo Valencia, l'unica provincia, lo ricordiamo, che non ha una propria discarica. Sì, anche qua nel sistema regionale la provincia di Vibo Valencia si appogge sull'impianto di Alamezia Terme, anche qua un piano che è datato 2007, è un piano regionale che oggi non ha più modo di essere perché si riferisce a una normativa che è stata superata, aveva degli obiettivi che non sono mai stati perseguiti né raggiunti, siamo distanti 8 anni dopo da quegli obiettivi, sarebbe il caso di rimettere mano a quella fase di pianificazione partecipata con il territorio. Purtroppo la provincia di Vibo sconta notevoli ritardi anche a causa di questo e anche a causa di una mancata sensibilità da parte di alcune amministrazioni. Voglio ricordare solamente questo a tutti gli amministratori che magari seguono questa trasmissione, che dal 1 gennaio di quest'anno le tariffe da parte della regione Calabria per conferire in discarica sono aumentate, sono passate da 92 euro per tonnellate di indifferenziato a almeno 148 euro di costo. Un aumento che ricade direttamente sui cittadini perché sono loro poi alla fine che devono pagare questo costo. Questo sicuramente, la norma ci dice questo, la legislazione nazionale ci dice che il costo della gestione dei rifiuti che fa un comune deve ricadere al 100% sulla tassa che poi viene distribuita sulle utenze. Perciò sarà tutto a carico dei cittadini. Anche in questo un'amministrazione purtroppo non ha grandi modo di intervenire. Però per quei comuni che comunque oggi non fanno affatto la raccolta differenziata si potrebbe prefigurare una situazione molto delicata perché la regione nel comunicare a tutti i comuni della regione Calabria questo aumento di tariffe ha inviato quella stessa messiva per conoscenza alla Corte dei Conti della sezione regionale. Questo significa che se un'amministrazione è immobile, non avvia, non si impegna nel fornire strumenti per fare la raccolta differenziata, quell'amministrazione, la maggioranza, quel sindaco, quegli assessori potrebbero essere chiamati in causa per danni erariale. Sappiamo bene che quando la Corte dei Conti effettua una propria sentenza, una propria determinazione, quella determinazione va sulla persona fisica, non sul ruolo. Perciò quel sindaco viene chiamato a pagare di propria tasca quel dannerariale causato all'ente. Nicola Tucci, quanto siamo in ritardo rispetto alla normativa europea e nazionale noi in Calabria? La normativa nazionale parla per il 2015 del raggiungimento del 45%. Noi come Italia abbiamo avuto l'anno scorso un collegato ambientale che sarebbe l'agenda verde del governo Renzi che ha modificato quelli che erano gli obiettivi di raccolta differenziata del testo unico ambientale 152 del 2006, li ha trasposti in avanti e per il 2015 questo collegato ambientale è fisso il 45%. Ora alcuni dei comuni calabresi lo hanno ampiamente superato come abbiamo visto anche nel servizio, altri purtroppo sono distanti abbastanza e dovrebbero mettersi in corsa per raggiungerlo al più presto possibile perché anche su base provinciale, su base regionale quel 45% purtroppo è distante e questo ci potrebbe far incorrere per la norma nazionale ma soprattutto quella europea in infrazione. Costi su costi ulteriori per tutti quanti, perciò costi perché non facciamo la gestione dei rifiuti a livello locale e abbiamo un alzamento dei costi perché i conferimenti sono stati pressoché raddoppiati e poi la regione così come l'Italia potrebbe essere sanzionata per questa infrazione e quella stessa infrazione potrebbe riversarsi di nuovo sulle tasche dei cittadini, non direttamente sulla tassa ma sugli altri strumenti che la regione ha per recuperare. Dunque a pagare il prezzo più alto come sempre sono i cittadini, ma perché questo ritardo? Il ritardo prima perché non abbiamo avuto sensibilità civica nell'affrontare questa questione e dire da oggi in poi facciamo la raccolta differenziata, da oggi in poi facciamo le cose per bene e dall'altra parte c'è stata anche una cattiva competenza di chi doveva fare alcune cose e purtroppo non è riuscita a farle. Qui poi scontiamo spesso e volentieri quando dobbiamo costruire degli impianti necessari per uno scontro con il territorio. Io lo dico sempre nel senso che il territorio fa bene a voler sapere, volersi informare di cosa avviene sul proprio territorio, però ci deve essere un tavolo comune su cui le questioni vengono poste, vengono date tutte le informazioni e quel processo di costruzione che porta alla realizzazione di un impianto deve essere il più possibile partecipato. Sì, è proprio quello che le stavo per chiedere, perché ogni volta in Calabria quando si parla di piattaforme tecnologiche o siti di stoccaggio ci sono sempre queste elevate di scudi da parte della popolazione, oppure si parla di malavita? Sì, partiamo dal fatto che gli impianti che lavorano i rifiuti non lavorano di rifiuti particolari, devono lavorare sempre i rifiuti urbani e cioè sono quelli che noi produciamo in caso sostanzialmente, perciò ognuno può vedere da sé qual è l'implicanza della produzione che fa, noi produciamo plastica, vetro, alluminio, scarti di cucina, non produciamo dei rifiuti che hanno dei carichi inquinanti alti, ne sono molto bassi. Dall'altra parte giustamente essendo un sistema che produce delle economie, dei guadagni, c'è un forte circolo di economia, perciò lì se non stiamo attenti ci potrebbero essere delle infiltrazioni che, come dire, mandano il sistema verso una situazione non legale, però anche qua serve vigilanza, serve partecipazione. Allora, quando noi dobbiamo costruire un impianto che valorizzi i nostri rifiuti, in particolare quelli secchi, carta, plastica, alluminio e acciaio, significa che in quell'impianto ci arrivano i rifiuti che produciamo in casa, che ci teniamo magari per due giorni in casa, arrivano lì e allora anche qua va informata la popolazione per dire questo è l'impianto che realizzo, questo è il processo che avverrà all'interno di quell'impianto, questo è quello che io lavoro e questo è quello che io produco. Allora, se queste informazioni vengono date a tutti quanti, penso che l'accettazione di quel tipo di impianti è maggiore. Dunque non è mancata soltanto una corretta programmazione, ma anche una corretta informazione alla popolazione rispetto ai rischi nella costruzione di piattaforme. Per esempio, qualche mese fa c'è stata questa elevata di scudi per il termovalorizzatore di Gioia Tauro, se non sbaglio. Sì, sì, noi in Calabria abbiamo un solo termovalorizzatore che è quello di Gioia Tauro, cosa fa in sintesi un termovalorizzatore, non tanto quello di Gioia Tauro, un termovalorizzatore prende una frazione secca che arriva dalla lavorazione degli altri impianti, che prima veniva chiamata CDR, combustibile del rato dei rifiuti, ora la norma l'ha cambiato in CSS, che significa combustibile solido secondario, che è una sorta di misto tra plastica e legno che ha un potere calorifero abbastanza elevato e che attraverso il bruciamento di questo materiale si produce dell'energia. Naturalmente il fatto di bruciare della plastica e del legno produce delle emissioni, anche qua le emissioni in una situazione di normalità non dovrebbero essere inquinanti, dovrebbero stare al di sotto delle soglie. Ora, un termovalorizzatore che funzioni in maniera perfetta non ha nessun tipo di implicanza, tant'è vero che uno dei migliori termovalorizzatori che noi abbiamo in Italia si trova a Brescia ed è pressoché nel centro abitato di Brescia, non produce nessun carico impattante, ma se un termovalorizzatore non viene gestito nel modo corretto ecco che si può dare delle implicanze di tipo inquinante. Dipende sempre dalla gestione che si fa di un impianto e soprattutto, lo ripeto, gli impianti non si gestiscono da soli ma vengono gestiti da persone e se le persone non sono competenti nella gestione o non sono attenti, allora gli impatti inquinanti, gli impatti ambientali possono aumentare notevolmente. Lei, lo ricordiamo, è specializzato nella realizzazione di piani per la raccolta differenziata, dunque che cosa propone per uscire una volta per tutte da questa emergenza? Prima di tutto consiglio ai comuni di impegnarsi fortemente su quella che è la raccolta differenziata, sul proprio territorio, se noi parliamo della provincia di Vibbo in particolare abbiamo dei comuni che hanno una taglia media intorno ai 3.000 abitanti, un territorio a bassa densità abitativa dove si fa veramente presto, veramente presto e in maniera molto veloce ad alzare le percentuali, perché noi abbiamo una zona montana dove ancora perdura fortunatamente quella che è l'attività dell'auto recupero e dell'auto riciclo, in particolare degli scarti di cucina, allora lì abbiamo una ulteriore facilità nel fare raccolta, abbiamo una zona mediana dove è compreso anche Vibbo che poi è un terzo della provincia sostanzialmente, dove anche qui c'è un territorio su cui è possibile avviare velocemente la raccolta differenziata e abbiamo una fascia costiera abbastanza compatta, abbastanza di densità lì in quella fascia elevata dove l'inserimento della raccolta differenziata produce subito degli effetti, come facevo prima all'esempio dei ricati dove in poco tempo si è arrivati dal 15 al 58, naturalmente anche il territorio della provincia di Vibbo deve adottarsi di strumenti tecnici, di piattaforme, quantomeno consortili per poter conferire rifiuti, piattaforme che valorizzino quei rifiuti, dall'altra parte serve una sensibilizzazione verso la popolazione a far capire appunto il perché lo si fa e dall'altra ancora la cosa importante è intervenire sulla produzione del rifiuto, cercare di contenere al massimo quella che è la produzione, significa che dobbiamo mettere a disposizione sempre dell'utenza, dei cittadini, strumenti affinché producano sempre meno, che so l'autocompostaggio dei prodotti con vuoto a rendere e non più a perdere l'ostacolamento con tutte le forme dell'usegetta, la fornitura di prodotti alla spina e tutte queste cose messe insieme, tutte queste attività possono fare riduzione della produzione. Dunque lei proprio per quanto riguarda la sua attività si occupa della progettazione di questi piani per la gestione proprio dei rifiuti, lei lavora anche all'estero? Sì, ho questa fortuna di lavorare anche all'estero, in particolare in un'area che è quella del Sud America che oggi ha le capacità per acquisire sul mercato innovazione tecnologica, vuole recuperare quello che è il differenziale con le altre aree del mondo, in particolare con l'area nordamericana e con l'area europea in questo settore e più in generale con il settore ambientale e allora lì ci sono le condizioni per poter avviare delle azioni, facendo tesoro delle esperienze che abbiamo maturato qui in Italia portandole in maniera corretta in quelle latitudini. L'altro giorno leggevo sul Repubblica che il Costa Rica, che è un paese su cui abbiamo avviato una collaborazione con l'Università della Capitale San Juan, da circa 75 giorni non utilizza più energia prodotta da fossili. Tutta l'energia del Costa Rica da 75 giorni a questa parte viene prodotta attraverso fonti rinnovabili, l'eolico, l'idroelettrico o anche quello che è l'energia prodotta dalla gestione dei rifiuti, valorizzazione della biomassa, dello scarto agroindustriale, dello scarto di cucina da raccolta differenziata. Secondo lei riuscirà la Calabria a recuperare tutti questi anni di ritardo e mettersi alla pari con le altre regioni di Italia e non solo, quindi avviare questa raccolta differenziata. Io ne sono convinto che possa recuperare l'importante, il punto di partenza e la volontà da parte di tutti, da parte di chi amministra e da parte di chi è amministrato. Essendoci la volontà di poter avviare questo percorso, il percorso è molto semplice da fare. Noi abbiamo a disposizione delle esperienze consolidate, anche in Calabria stessa, che ci dicono che è possibile. Abbiamo visto comuni che sono oltre il 70% in maniera costante, non è un fatto episodico. Roccella è oltre il 70% da più di 4 anni, perciò le cose si possono fare, possono rimanere tali anche in Calabria, anche da noi. Dunque l'appello è agli amministratori locali e regionali? Questo sicuramente è un appello agli amministratori locali, di rimboccarsi le maniche e tentare di fare tutto per avviare la raccolta differenziata. È una corretta gestione dei rifiuti e anche alla nuova amministrazione, che si è insediata da poco a livello regionale, che prenda in mano, prenda le redini di questo settore all'interno di quello ambientale e possa produrre tutti quegli strumenti per tutti quanti, affinché ognuno possa fare il proprio percorso virtuoso. Dunque come se la immagina la Calabria tra qualche anno? Io spero che la Calabria possa assomigliare un pochettino al Costa Rica, che ne abbiamo parlato, di un'economia basata su quello che è l'attività verde della Calabria, dove ci sia una raccolta differenziata di percentuali elevate, che poi in determinate occasioni quella percentuale di raccolta differenziata può contenere i costi, abbassare le bollette ai cittadini e per le nostre coste quella raccolta differenziata e ci può fare anche ottenere le bandiere blu e questo può anche elevare ancora di più la qualità del nostro mare, la qualità dell'afferto turistico. Certo, soprattutto in Calabria che è la regione più alta vocazione turistica. Bene, io ringrazio Nicola Tucci per essere stato con noi oggi, abbiamo parlato di questa emergenza rifiuti in Calabria, un'emergenza senza fine, così abbiamo anche titolato la puntata di oggi di 30 minuti. Grazie, l'appuntamento ritorna nei prossimi giorni, solito orario sempre sulla C. Grazie. 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 Grazie.